Buonasera a tutti, ben ritrovati al concerto appuntamento con il TMV News. Tante riflessioni sul campionato con la settima giornata. Doveva essere una partita, quella di ieri sera, in cui il Milan doveva continuare la sua striscia positiva in campionato. Era riuscito a mettere insieme tre vittorie consecutive e in realtà la Fiorentina ha trovato la sua serata perfetta. Parliamo di questo e altro insieme a Tommaso Borghini qui accanto a me. Buonasera a tutti, ciao Lorenzo. Una Fiorentina che di colpo ha trovato la sua identità, ha trovato il gioco, ha trovato il risultato, alla fine anche meritato per quello che si è visto sul campo al di là dei due rigori sbagliati dal Milan. Sì, è stata una notte magica per Firenze e per la Fiorentina, nella quale si è ritrovato tutto il gioco, ma soprattutto l'identità, la grinta, il furore, la voglia di vincere in uno stadio che per quello che è possibile, perché sappiamo che ci sono i lavori all'Artemio Franchi, è stato anche molto caldo e pieno per quanto possibile. Ed è stata una notte invece nella quale il Milan ha mostrato tutti i suoi limiti, che credevamo superati dalla vittoria nel derby sull'Inter, e che invece si sono riaffiorati prepotentemente nelle ultime uscite, in particolare in quella di Firenze di ieri sera. C'è un problema di atteggiamento da parte del Milan, un problema di approccio alla partita, un problema tattico, questo 4-2-4 che evidentemente non può sempre essere sopportato dalla squadra, non in tutti gli impegni almeno. Un po' un insieme di cose, diciamo. Certamente l'equilibrio della squadra è molto complicato da trovarsi, soprattutto quando ci sono anche impegni ravvicinati, nei quali poi l'allenatore non fa cambi a sufficienza. Evidentemente quindi c'è da interrogarsi anche sulla profondità della Rosa, o almeno sulla considerazione che l'allenatore ha del resto dei giocatori. Due soli cambi nella partita con la Fiorentina a gara in corso, palesemente la squadra che ha delle problematiche fisiche, e poi insomma qualche problemino anche, insomma mi è sembrato che ci possa essere all'interno riaffiorato, ecco all'interno del gruppo, nel rapporto con l'allenatore. Anche questo fatto che l'allenatore avesse deciso un rigorista che poi invece per ben due volte le sue disposizioni sono state, diciamo così, disattese perché hanno calciato altri due giocatori e Fonseca si è detto anche molto arrabbiato per questo. Mi sembrano dei segnali di scricchioli che pensavamo passati, ma che mi sembra stiano tornando prepotentemente a galla. E in effetti sono probabilmente la spia anche di un rapporto non idilliaco tra il tecnico e la squadra, o comunque insomma vanno fatte delle riflessioni sulla capacità di questo allenatore di incidere sul gruppo, di far rispettare anche le proprie decisioni. Assolutamente, e poi un altro aspetto che ho notato è un molto nervosismo, un nervosismo latente all'interno della squadra, soprattutto in alcuni dei suoi componenti, molto importanti, in riferimento a Teo Hernandez per esempio, è chiaro, visto anche il fatto che è stato espulso a fine partita, protestando nei confronti dell'arbitro, ma forse sfogando quella che è una frustrazione interna che c'è latente all'interno della squadra. E quindi è chiaro che quando ci sono questo tipo di segnali, è ovvio che il sereno che sembrava essere tornato, adesso non ha più quei colori così chiari. e bisognerà approfondire e chiaramente la sosta potrà essere un'occasione anche per questo. Non possiamo non parlare di De Gea, protagonista assoluto del match di ieri sera con due rigori parati, non succedeva dal 2016, era stato Marchetti con la Lazio a parare due rigori nella stessa partita. No, è un qualcosa, un'impresa straordinaria, un portiere che è tornato in pochissimo tempo dopo un anno sabbatico, grande protagonista, l'avevamo già visto nell'impegno europeo, nei play-off di conference, come poteva essere decisivo a Budapest in particolare, è stato, lo è stato ieri, straordinario, parando due rigori, tra l'altro di una coefficiente di difficoltà altissimo, sia il primo che il secondo, due parate molto diverse, non è stato un rigore secondo me tanto sbagliato, anche se poi per la verità quando il rigore non viene segnato, un po' d'errore dell'attaccante o del tiratore c'è sempre, ma lì ci ha messo molto del suo anche il portiere, non solo su quello, ha fatto anche altre parate decisive nell'arco di tutta la serata, dimostrando che insomma quando hai un giocatore di questo tipo anche le problematiche difensive che insomma hanno un po' colpito la Fiorentina in questo inizio di stagione, diciamo possono essere superate perché poi il portiere fa parte comunque della squadra e della difesa, se ti fa grandi parate ti toglie Castagne dal fuoco e De Gea è un grande giocatore e lo sta dimostrando anche a Firenze. De Gea che è stato determinante anche in occasione del secondo gol della Fiorentina, quello di Gudmundson con un lungo lancio a cercare Ken che poi ha fornito l'assist per Gudmundson in questa circostanza, quindi bravo certamente De Gea, però bisogna anche dare un po' di responsabilità a Tomori che salta a vuoto e si fa scavalcare dal pallone all'occasione proprio del lancio di De Gea. Sì, sono errori che ci possono stare ma che oggettivamente non dovrebbero far parte di un calcio ad alto livello perché prendere gol sul rinvio del portiere con la sponda e praticamente in tre tocchi la Fiorentina è andata a rete. Sorprendendo, una difesa del Milan molto alta, tra l'altro insomma eravamo in una fase delicatissima della partita nella quale subire gol poi diventa molto difficile poterlo rimontare infatti poi alla fine la partita del Milan l'ha persa ecco, farsi cogliere anche una situazione del genere dal punto di vista tattico mi è sembrata una grossa ingenuità sia del giocatore ma in generale di tutta la squadra anche come era messa in campo e quindi insomma si vede che la Fiorentina ha saputo cogliere i punti deboli e approfittare dei punti deboli di questo Milan che periodicamente vengono a galla e gli avversari se ti studiano poi ti fanno molto male. E dopo sette giornate di campionato quanto vale la Fiorentina e quanto vale il Milan? Ma allora, la Fiorentina credo che valga di più dell'attuale classifica anche se è una classifica molto corta alla fine 10 punti dalla Fiorentina 14 se non mi sbaglio dell'Inter quindi 4 punti soltanto dal secondo posto e quindi in teoria può succedere ancora di tutto però la posizione è qualcosa di più io credo che la Fiorentina possa comunque lottare per le posizioni in Europa vedremo se migliorare o meno la sua posizione ormai tradizionale che è quella di Conference ma ci può lottare il Milan è un bel mistero è enigmatico, è altalenante alterna grandi prestazioni a cadute fragorose e quindi è tutto da studiare certamente il potenziale offensivo per me è di altissimo livello bisogna però trovare un equilibrio quei due soli giocatori nel mezzo con tra l'altro poca capacità anche difensiva mi sembra che siano un problema e se Fonseca non cambia un po' allora competere ad alto livello può diventare molto molto difficile grazie a Tommaso Borghini grazie a te andiamo a salutare Massimo Morales ciao Massimo ben ritrovato ciao Lorenzo salve stavo parlando in precedenza qui in studio della vittoria della Fiorentina con il Milan naturalmente tanti meriti per la squadra di Palladino invece il Milan continua ad offrire versioni contrastanti di sé che ne pensi? sì devo un po' ripetermi su quello che abbiamo detto qualche settimana fa che il Milan ha un grande potenziale offensivo e se lo becchi nella giornata giusta può travolgere chiunque però mi sembra che la fase difensiva continui ad essere diciamo un po' allegra nel senso che non vedo gli uomini dell'ultima linea pressare, difendere diciamo dare l'anima su ogni pallone che poi è quello che fa un po' la difesa al di là dei moduli mi sembra che gli avversari anche nelle partite precedenti che ho osservato riescano ad arrivare abbastanza facilmente in area o comunque in zona tiro e per una squadra che ha ambizioni importanti tu mi insegni che la fase difensiva è fondamentale quindi io credo che Fonseca ci sia lavorando però non hanno ancora raggiunto quel livello che ci si aspetta e quindi è chiaro che puoi avere a volte delle partite dove l'avversario ti mette in difficoltà poi insomma ci sono anche c'è stato il pizzico di fortuna dei rigori parati quello che vuoi però tutto sommato il Milan non mi sembra ancora solidissimo in difesa senti invece che riflessioni fai su questo Napoli in testa alla classifica potrebbe essere di nuovo il suo anno? ma secondo me sicuramente il Napoli è un candidato serio nel senso che era una buona squadra che però aveva bisogno di trovare un po' la condizione fisica e le motivazioni soprattutto e con Antonio Conte le ha diciamo le ha trovate poi è stata rinforzata secondo me perché gli uomini presi mi sembrano che stiano rendendo tutti quanti molto bene poi c'è Lukaku che se è in forma fa la differenza fa gol, fa assist tiene sulla squadra insomma sicuramente il Napoli non avendo anche le coppe che si racconti secondo me lavorare tutta la settimana senza interruzioni è meglio è una mia opinione io credo che il Napoli possa tirare fino in fondo poi dopo sai stagione è lunga abbiamo visto anche gli infortuni a volte penalizzano le squadre questo fine settimana purtroppo ne abbiamo registrati o qualcuno di infortuni importanti Eh sì, è vero, è vero non ultimo quello di Zapata che si è procurato un bel problema al ginocchio doveva star fermo per operarsi per quanto riguarda la Juventus l'impressione è che questa squadra o riesce a vincere nettamente o altrimenti incontra le difficoltà altro pareggio ieri contro il Cagliari Ma questo è da addurre al fatto ok, è un progetto nuovo allenatore nuovo quindi si sta lavorando poi c'è secondo me una rosa non completa nel senso che ci sono delle partite che tu riesci a vincere a volte anche facendo un cambio mettendo dentro un tipo di attaccante diverso ecco la Juve mi sembra che in avanti sia un po' Vlaovic dipendente nel senso si gioca in un certo modo se Vlaovic fa gol è bene se no non c'è un attaccante di riserva che magari abbia anche caratteristiche diverse che se lo butti dentro può mettere in difficoltà l'avversario che magari si è preparato bene su Vlaovic ecco mi manca un po' qualcuno in più nella rosa che dia qualche guizzo per permetterti di vincere anche quelle partite sporche tra virgolette cioè che magari sai dopo una grande partita di Coppa ci sta che la partita successiva sei un po' abbia tu una situazione psicofisica un po' di calo quindi io credo che sia Durre ad una rosa che andrà completata tra gennaio e il mercato prossimo secondo me la vera Juve forte che potrà competere fino in fondo la vedremo più avanti insomma non ora la vera rivelazione invece sembra essere la Lazio anche in riferimento a quelle che erano le aspettative di quest'estate c'erano tante polemiche l'arrivo di Baroni che non riusciva ad entusiasmare la piazza Laziale tante partenze illustri e invece proprio Baroni è riuscito a compattare il gruppo e fino a questo momento è riuscito a dare proprio un'idea di gioco ben definita e è riuscito anche a ricavare il massimo dai propri giocatori ma Baroni è uno di quegli allenatori che lavorano sotto traccia diciamo e gli è stata data una squadra in mano per lavorare sotto traccia senza grandissimi nomi senza grandissime diciamo esaltazioni e Baroni sta facendo il lavoro che sta a fare bene con umiltà con dedizione con grande spirito di sacrificio la squadra sta crescendo non ci dimentichiamo che Baroni lo scorso anno secondo me ha fatto con il Verona un miracolo perché gli fu affidata una squadra rifatta completamente lui è riuscito pezzo dopo pezzo a ottenere risultati e secondo me bisogna dare merito a questo tecnico poi vedremo dove arriverà Lazio però credo che l'idea di Lotito e dei suoi dirigenti sia stata proprio questa affidiamo il gruppo di giocatori a un alleatore che ce li fa rendere al massimo delle proprie potenzialità e forse anche qualcosina in più poi riesce anche ad azzeccare i cambi come è successo ieri inserendo Pedro che trova anche il gol vittoria è chiaro che la classe non manca a questo giocatore bisogna saperlo utilizzare al momento giusto centelinandolo un po' sì pensavo che avesse smesso di giocare perché c'è una certa età ormai battute a parte è proprio lì l'abilità dell'allenatore conosce i giocatori a propria disposizione e utilizzarli per quello che ti possono dare nel momento giusto poi sai quando l'allenatore fa il cambio lo fa sempre con buone intenzioni poi il giocatore ti fa gol sei stato bravo il giocatore non performa l'allenatore ha sbagliato il cambio è sempre un po' diciamo così questa linea borderline che ti dà questa sensazione però io di Baroni diciamo fino a un certo punto mi fiderei che possa portare questa squadra abbastanza in alto la Roma invece ancora non riesce a decollare pareggio tutto sommato deludente contro il Monza è vero che poteva esserci un rigore ci sono state tante polemiche per il mancato penalty per i giallorossi però ecco un cammino non certo soddisfacente quello dei giallorossi ma diciamo che la Roma era una squadra che andava costruita e De Rossi ci stava lavorando perché era un po' l'anno zero di De Rossi dopo averla presa in corsa la stagione scorsa e poi hai il cambio di allenatore e poi più gli scombussolamenti dirigenziali quindi adesso si deve un po' ripartire non dico da zero perché c'è stato un lavoro fatto da De Rossi però un nuovo allenatore deve capire la squadra i giocatori implementare le proprie idee e quindi non ti puoi aspettare che da un momento all'altro le cose vadano lisce e tutto bene io ho osservato con molta attenzione per esempio la partita di Coppa contro l'Elsborg e non mi è dispiaciuta la Roma è stata anche un po' sfortunata però per esempio gli svedesi mi sembravano avere un ritmo un po' più superiore rispetto alla Roma ma anche sulla parte diciamo atletica di questa squadra poi ho sentito che forse ci sono stati dei cambiamenti a livello di preparazione o di preparatori proprio con l'aggiunta di altri specialisti quindi bisogna trovare la quadra sul discorso come lavoreremo fisicamente sai il calcio comunque non è che si può inventare in pochi giorni io credo che che la Roma sia non dico un cantiere aperto però un cantiere ancora un cantiere comunque comunque a proposito di Juric è un tecnico con grandissima esperienza però non può essere messo in discussione ad ogni partita proprio anche per lo sviluppo del suo lavoro perché è quello che sta accadendo a Roma adesso e vabbè ma a Roma ci hanno il dente avvelenato perché è andato via dei rossi quindi adesso secondo me chiunque fosse arrivato avrebbe avuto difficoltà a livello diciamo mediatico più che dei risultati poi se non arrivano nemmeno i risultati a maggior ragione quindi pare che Juric di questa situazione sia l'ultimo dei colpevoli se i risultati non arrivano bisogna dargli un attimo di tempo non ha fatto lui la preparazione si è trovata una squadra non fatta su misura per le sue idee di gioco quindi al di là dell'esperienza anche lui bisogna dargli un po' di tempo poi magari a gennaio si dovrà agire sul mercato per andare a colmare non so le lacune per far sì che la squadra però sai anche il fatto di avergli dato un anno di contratto e nei confronti della squadra a livello psicologico a livello dell'ambiente cioè è un allenatore a tempo ok quindi anche lì non so questa dirigenza adesso non voglio muovere critiche a nessuno però non mi sembra che si stia facendo il bene della Roma a livello dirigenziale si fanno si prendono decisioni un po' così e poi ne paghi un po' le conseguenze quindi è così non mi aspetto che la Roma adesso improvvisamente diventi una candidata al titolo in effetti tante scelte discutibili da parte della dirigenza giallorossa Massimo grazie mille come sempre buona giornata altrettanto grazie a te e adesso parliamo anche dell'Inter lo facciamo attraverso questa intervista a Simone Inzaghi il tecnico venerazzurro che è intervenuto quest'oggi a Roma al premio Scopigno il campionato sembra più equilibrato rispetto a quello della scorsa stagione sì ma avevo detto alla vigilia insomma ci sono tante squadre che si sono rinforzate tantissime che vorranno contendere all'Inter l'ultimo campionato vinto quindi il campionato queste prime sette giornate ha dimostrato che tutte le partite sono insidiosi non ci sono partite scontate e cercheremo tutti quanti di dare il massimo meglio la centro o il suo campionato? questa è una domanda chiaramente quando sei all'Inter devi essere competitivo in tutte le competizioni portano un dispendio fisico di energie mentali importanti però è il bello del calcio insomma giocare le partite di Champions nel nostro campionato è molto molto bello uno scuodetto così bello quello vinto nella passata stagione come si può non far correre il rischio alla squadra e sentire un senso di appagamento nella stagione successiva? ma quello chiaramente sappiamo che vincere lo dicono insomma un po' tutti anche tantissimi allenatori del passato insomma vincere è difficile rivincere è ancora più difficile però noi ci stiamo attrezzando stiamo lavorando siamo agli inizi perché insomma sono passate sette partiti di campionato e due di Champions e chiaramente bisogna cercare sempre di lavorare per migliorarsi ogni giorno mister Turam sta bene partire a quella nazionale? sì quello ieri mi sono sentito con il dottore dell'Inter sembra che stia un pochettino meglio insomma c'è qualche apprezzione adesso chiaramente poi lo vedrà anche lo staff della Francia e poi insomma speriamo che possa recuperare velocemente un primo bilancio Napoli avanti c'è stata qualche schermaglia simpatica tra Motta e Conte lei come la vede in questo momento la pressione su chi deve andare? la pressione ce l'abbiamo tutti e tutti quanti tutti gli allenatori tutte le società insomma tutte squadre importanti ben attrezzate che cercheranno tutti di dare il massimo ma una rosa all'altezza l'Inter per fare tutte le competizioni per arrivare in fondo a tutte le competizioni quello lo sicuramente insomma abbiamo una società forte alle spalle con dei dirigenti capaci che cercano di di lavorare ogni giorno hanno lavorato bene anche quest'anno chiaramente con con col massimo sacrificio da parte di tutti sapevamo quali erano i nostri paletti quali sono stati in questi tre anni penso però che la squadra e che la società abbia fatto grandi cose con le parole di Simone Inzaghi siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News appuntamento a domani non mancate buona serata a tutti non mancate un problema di